Dieta mediterranea, perdere peso in modo naturale e sano sottile. Perdere peso in modo naturale con la dieta mediterranea, sappiamo tutti i vantaggi di questa dieta, che sono pochi, ma ora, con la vicina sorgente, sta cercando di perdere qualche chilo. Se si vuole perdere peso con la dieta mediterranea, si ottiene in un modo sano. Vieni costantemente senza restrizioni importanti, perché è una dieta vera, sana e sostenibile a lungo termine, permette di mangiare quasi tutto in quantità adeguate, con il dettaglio importante che ci mette a rischio di un effetto di rimbalzo. Per due anni ha tre diversi tipi di diete a uomini e adulti obesi, confrontando gli effetti di una dieta povera di carboidrati, una dieta basso contenuto di grassi e la dieta mediterranea. Così è stato trovato che la dieta è povera di carboidrati perso 4,7 kg, con la dieta povera di grassi e 2,9 kg con la dieta mediterranea 4,4 kg, ma dopo quattro anni, con l'altra dieta aveva recuperato quasi tutto il peso perso, mentre con la dieta mediterranea, recuperato solo una media di 400 g in un chilo che ha perso peso tenerlo. Inoltre, con i miglioramenti dieta mediterranea sono stati osservati i modelli lipidici che ha condotto questo tipo di alimentazione, conseguire un'ulteriore riduzione del colesterolo totale nel lungo termine. Una dieta ricca di fibre, antiossidanti e ricchi di grassi buoni principalmente acidi grassi mononsaturi, sembra essere la strategia migliore per perdere peso in modo sano, senza rimbalzo. Sai, se stai cercando di perdere peso, non sacrificare o mettere a rischio il vostro corpo con la dieta miracolo, ma sceglie la dieta mediterranea sana e gustosa in una dieta sana. Inserire il canale video, lezioni dieta mediterranea. Grazie per l'ascolto, spero che questo sarà informazioni utili. Buona giornata.